Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata al bilancio delle attività dei carabinieri a Gela. In questo 2015 che sta per concludersi ne abbiamo parlato con il comandante, il maggiore Valerio Marra. Sentiamo. Comandante, se dovessimo tracciare un bilancio delle attività del 2015 di questo anno che sta finendo, che bilancio sarebbe? È stato un anno senz'altro positivo, un anno che ha visto una riduzione a Gela dei reati che particolarmente creano allarme sociale, quali danneggiamenti seguiti da incendio, i furti. C'è stato un calo addirittura del 60% delle rapine. Quindi è stato un 2015 all'insegna della prevenzione e il dispositivo di controllo del territorio ha senz'altro funzionato. Poi è stato un anno che per quanto ci riguarda è iniziato molto bene con una bella operazione di servizio, l'operazione di SEA, che ha portato in carcere sette persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia catalare messa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per un'associazione disarticolata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Poi in primo grado già ci sono stati i primi esiti perché ci sono state anche combinate le condanne pesanti nei confronti delle persone che sono state arrestate. E poi è stato anche un anno che ci ha visto anche molto impegnato su fronte appunto del contrasto ai reati commessi anche dai giovani, anche in un'ottica preventiva, quindi segnalazioni numerosissime per l'articolo 75 e per il DPR 309-90, quindi per l'uso personale di sostanze stupefacenti e anche alcuni sequestri di sostanze stupefacenti. Comandante, i due episodi che si sono verificati con delle sparatorie hanno fatto temere a molti che si potesse ripiombare negli anni bui degli anni Ottanta. Lei invece che idea si è fatto? Un episodio senz'altro grave, soprattutto quello di dieci giorni fa, avvenuto in piazza. Stiamo lavorando intensamente, coordinati alla Procura Repubblica presso il Tribunale di Gela, sull'attività investigativa e su tutti quelli che sono i riscontri e speriamo di poter naturalmente portare dei buoni risultati e di riuscire ad addivenire l'identificazione degli autori dell'omicidio. Secondo lei, su quali reati si dovrà continuare a lavorare intensamente in termini di prevenzione? Soprattutto sui giovani. Io in diverse circostanze ho incontrato gli studenti delle scuole medie di primo grado, delle scuole medie di secondo grado e anche grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato ho fatto degli incontri con numerosissimi giovani, ai quali ho spiegato ad esempio il rischio dell'abuso di sostanze alcoliche, l'uso di sostanze stupefacenti, quali rischi dal punto di vista giuridico potrà comportare l'uso o l'abuso di queste sostanze. Ma soprattutto in un'ottica di prevenzione ho cercato anche di incontrare molti imprenditori, quelli della zona industriale di Gela, negli alcuni mesi vessati da alcuni episodi di furto e ho consigliato loro ad esempio il collegamento con il sistema di teleallarme al 112 ma di dotare degli idoni sistemi di difesa passiva che possono naturalmente consentire loro di proteggere il loro patrimonio ma soprattutto le attività imprenditoriali. Una vera e propria centrale di riproduzione illecita di materiale coperto dal diritto d'autore è stata scoperta a Gela dalla Guardia di Finanza. Vediamo. Scoperto traffico di DVD pirata Gela dalla Guardia di Finanza. Durante i controlli di fine anno volti a prevenire e vigilare sul commercio la detenzione illecita di artifici pirotecnici, gli uomini delle fiamme gialle della locale compagnia, a seguito della perquisizione di un esercizio commerciale successivamente dell'abitazione del titolare, hanno scoperto una vera e propria centrale di riproduzione illecita di materiale coperto dal diritto d'autore. Sequestrati 6 hard disk per un totale di 6,5 tetra byte di capacità, 2 PC, 341 DVD illecitamente riprodotti e privi del prescritto con un trassegno SIAE detenuti per la vendita. Denunciato il titolare dell'esercizio commerciale per i reati di riproduzione e detenzione per la vendita di prodotti audiovisivi illecitamente duplicati. Altri 700 DVD illecitamente riprodotti e privi di contrassegno SIAE sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Caltanissetta a un extra comunitario durante il mercatino settimanale. Proseguirà in questi giorni l'attività di controllo di tutela economica e finanziaria del territorio. E' stato arrestato nella serata di ieri dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata. Si tratta di Laurenzio Daniel, 46 anni, romeno domiciliato a Licata, operaio con precedenti penali nello stato di origine. L'uomo deve scontare la pena definitiva di 4 anni in quanto responsabile di truffa, reato commesso in Romania nel 2000. I carabinieri del nucleo operativo, in seguita ad una mirata e rapida attività info-investigativa, hanno rintracciato il cittadino romeno destinatario del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania mentre si trovava nella propria abitazione a Licata. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Agrigento a disposizione della competente autorità giudiziaria. Consiglio di fabbrica ieri per continuare a trattare la difficilissima situazione occupazionale dell'area industriale gelese. Intervengono i sindacalisti. Sentiamo. Si è tenuto ieri il consiglio di fabbrica dell'RSU e del gruppo Eni, congiuntamente con le segreterie di Filctem, Femca e Wiltec, per continuare a discutere della vertenza a Gela. Le sigle sindacali continuano congiuntamente a monitorare la difficile situazione, contestano il contegno posto in essere dalla raffineria nel procedere, in maniera unilaterale con un assetto organizzativo gestionale non condiviso tra le parti, così come scrivono i sindacalisti in un documento condiviso e dichiarano i nostri microfoni. Abbiamo fatto un consiglio di fabbrica alla luce di un'azione unilaterale fatta dall'azienda per quanto riguarda un assetto organizzativo che c'era posto a settembre di quest'anno, dove noi avevamo delle perplessità su quello che era l'organizzazione presentata. Naturalmente noi dobbiamo essere un po' conseguenziali, non per quanto riguarda l'assetto organizzativo, ma soprattutto su quello che l'accordo stesso è. L'accordo prevedeva che c'erano nell'arco di tre anni, tre anni e mezzo, circa 2,2 miliardi che dovevano essere spesi sul territorio. Questi soldi devono avere una parte su quello che è l'investimento sia nell'esplorazione che nella parte della green refinery e su questo noi ci dobbiamo confrontare, perché l'organizzazione del lavoro è importante non solo per la raffineria, ma anche su Enimed e sulle altre società che sono nate, come l'SCC e la Sindel, che dovevano essere trasferite altri lavoratori nel complessivo. Quindi noi riteniamo che di pari passo devono camminare in una certa maniera gli investimenti e nell'altro senso avere in modo di fare delle organizzazioni dove noi dobbiamo fare assieme alla gente con un accordo e non in maniera unilaterale come lei vorrebbe fare. Voi avete delle perplessità in realtà sul mantenimento dei livelli occupazionali? Non sono perplessità ma sono dati di fatto. Noi all'inizio di questa partita eravamo 1143 persone, allo stato attuale sono andate via 600 unità, quindi il numero si riduce, perché è vero, l'accordo prevedeva che dovevano essere 400 persone alla fine nella fiera, ma tuttora le condizioni tecniche, operative e gestionali non ci permettono di mantenere quel livello occupazionale che chiede l'azienda. Quindi noi vogliamo fare un confronto con l'azienda per verificare se ci sono le condizioni tecniche affinché si raggiunga quel numero 400. Che cosa si è inceppato nel meccanismo? Perché all'inizio era stato garantito, all'inizio di tutta questa trattativa, cioè quando si cominciò a parlare di trasformazione dello stabilimento in green raffinery, si parlò di mantenimento dei livelli occupazionali. Dove si è inceppata la macchina? Cosa non ha funzionato e cosa si deve fare immediatamente? Il tutto si è inceppato perché sostanzialmente, come diceva il collega, 2,2 miliardi di euro spesi sul territorio è una bella cifra. fatta con un barile a quasi 100 dollari ha un senso e rappresenta anche per l'azienda un capitale di investimento. Fare un investimento con un barile a 38 dollari questo comunque crea dei freni alla società per gli investimenti che deve fare. Ma dal punto di vista occupazionale dove si è inceppato? Si è inceppato perché ci sono stati dei ritardi dal punto di vista dell'apertura dei cantieri sia per quanto riguarda la realizzazione della green raffinery sia per quanto riguarda il progetto Argo Cassopea che è il progetto che c'è in esplorazione e perforazione. Stiamo tentando in tutti i modi possibili di far garantire quando prescritto nel protocollo. Se non dovesse essere così è sicuro che dovremmo passare a delle azioni di lotta dello stato di agitazione che in questo momento non è consigliabile perché già nel territorio di Gela c'è una tensione c'è un clima altamente esplosivo. Lei giustamente parla facendo riferimento anche a concetti di macroeconomia con l'andamento del petrolio però come si fa a spiegare questa circostanza così lontana dalla vita quotidiana delle famiglie ad un operaio che da un giorno all'altro ha perso il lavoro? Questa situazione è una situazione davvero paradossale perché noi all'atto della firma del 6 novembre avevamo posto l'allarme che prima di iniziare con gli investimenti prima di mettere in campo tutta la fase di progettazione sapendo che il 2015 a livello di apertura di cantierizzazione ce ne sarebbe stata pochissima avevamo allertato sia il governo sia il ministero del lavoro sia la regione che la fase degli strumenti speciali le leggi speciali che dovevano accompagnare in particolar modo i lavoratori dell'intotto dovevano essere pronti e disponibili la realtà è invece che ci siamo trovati di fronte a tamponare giorno per giorno questa situazione senza una programmazione e senza una retribuzione certa per questi lavoratori Da gelese sono seriamente preoccupato per le sorti della mia città che per colpa della sfasciata e scombussolata giunta messinese sta precipitando verso il baratro lo scrive in un comunicato inviato alla stampa Lucio Greco di un'altra Gela non si possono cambiare in meno di 5 mesi 4 assessori su 6 confermandone soltanto 2 che di 5 stelle peraltro non hanno nulla il sindaco messinese è stato eletto in quanto rappresentante dei 5 stelle e ha torto a ragione è stato visto come un simbolo di cambiamento con le sue decisioni si sta rivelando invece inadeguato e incapace a gestire una macchina così complessa e difficile come il governo di una città ma fatto ancora più grave si mostra come garante di operazioni politicamente inqualificabili e inquietanti sul piano amministrativo leggiamo ancora nel documento siamo di fronte ad una vera e propria emergenza democratica di questo passo non sappiamo dove si andrà a parare il sindaco mostri nei confronti di una città che tanto gli ha dato una certa gratitudine si dimette e risparmia la città certe sceneggiate se conclude Lucio Greco nell'ambito del Giubileo della Misericordia la Forannia di Gela prepara un evento in occasione dell'apertura della Porta Santa presso la Piccola Casa della Misericordia il 6 gennaio alle 10.30 in Chiesa Madre inizierà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo insieme ai sacerdoti della città e subito dopo si snoderà la processione verso l'ex orfanotrofio Regina Margherita dove Monsignor Rosario Gisana aprirà la Porta Santa della Misericordia che rimarrà aperta fino al 6 novembre del 2016 cambiamo ancora argomento la tua stella di solidarietà è l'iniziativa di beneficenza promossa dall'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano di Gela a favore delle famiglie meno abbienti l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia e le associazioni Gela Famiglia e il Tempio di Apollo vediamo anche quest'anno la tua stella di solidarietà una raccolta di bene di primissima necessità per le famiglie indigenti a questa iniziativa ci collabora Gela Famiglia la parrocchia Santa Lucia e il Tempio di Apollo e tutto questo l'abbiamo potuto fare anche grazie soprattutto all'amministrazione comunale all'assessore Francesco Salinito che si è prodigato senza alcun problema a rendere ancora più bella questa giornata la giornata si concluderà con la sottoscrizione del consumo critico che è questa la base fondamentale della nostra associazione la sottoscrizione del modello critico significa dove noi indirizziamo i cittadini ad acquistare presso quei negozi che hanno dichiarato ufficialmente di non pagare il pizzo anche quest'anno l'associazione anti-racket ci ha invitato a questo evento il signor Capponetti ogni anno organizza appunto questo momento per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso l'associazione o attraverso le parrocchie i commercianti porteranno degli alimenti e questi alimenti si rivederanno tra di noi e ne usufruiranno le famiglie bisognose quindi un grazie va all'associazione anti-racket nella persona del signor Capponetti ma anche all'istituzione a tutti i volontari a tutti i commercianti che contribuiranno a far sì che le famiglie che vivono in momenti di difficoltà possono avere anche un allaggeramento del loro peso bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattrocchi le domande devono essere presentate entro le ore 12 e 30 di domani non farà fede il timbro postale per informazioni 0933 90 11 34 l'ex provincia regionale di Caltanissetta decide di uscire dal consorzio universitario l'ente tra i soci fondatori del consorzio è stato in questi anni uno dei principali sostenitori economici assieme al comune di Caltanissetta oltre ad aver messo a disposizione gratuitamente i locali che ospitano in via Real Maestranza il corso di ingegneria elettrica una scelta che ha scatenato in città una serie di reazioni prima fra tutte quelle del segretario generale della CISL Gianfranco Di Maria noi chiediamo al commissario di revocare questa scelta siamo addirittura indignati che un commissario che viene da Palermo nominato sostanzialmente per 30 giorni arrivi e immediatamente ci metta fuori da quello che è stato il consorzio universitario che noi abbiamo fondato e quando parlo di noi io ritengo che i dipendenti non siano dipendenti siano collaboratori la differenza tra dipendente e collaboratore è che il dipendente fa quello che gli dice l'imprenditore senza che gli interessa niente il collaboratore fa parte della squadra la provincia è una cosa nostra anche come come azienda noi siamo assolutamente offesi che senza manco sentire il nostro parere abbia fatto qualcosa di questo genere poi per la città non è possibile che un ente prestigioso come la provincia venga messo venga estromesso dal consorzio universitario il nuovo ente il nuovo libero consorzio dovrà avere nuove competenze ma non solo le competenze che ha oggi la ex provincia regionale di Caltanissetta può aiutare anche nella redazione dei progetti il consorzio universitario e dobbiamo fare un applauso devo fare un applauso al sindaco perché ritenevo di essere un'unica voce di restare un'unica voce invece mi pare di aver letto questa mattina che anche lui è in qualche modo indignato io chiedo che anche la città si indigni noi non possiamo perdere oltre la Banca d'Italia e le altre cose che abbiamo perso anche questa opportunità per noi è una opportunità tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare lo hanno comunicato i padri agostiniani ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crocifisso Ragona domenica 3 gennaio prossima alle 19 è previsto il concerto dei migliori alunni dell'Istituto Musicale Certificato Nova Gelas seconda mostra dei presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali e promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio previsti intrattenimento e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30 La cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30 Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali Continuano gli appuntamenti col Grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra di presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi albero della vita nel piazzare della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici è Natale al quartiere arabo della città e Betlemma Iangeli il presepe vivente e più amato dei misseni ad aprire i festeggiamenti il saluto di padre Salvatore Lovetere nella chiesa di San Domenico che ha accolto la sacra famiglia ai figuranti delle presepe con i loro antichi mestieri che hanno poi trovato spazio nelle case costruite dagli arabi recuperate dall'associazione di volontari che si occupano dell'allestimento del presepe tra le strette vie dello storico rione si respirava aria di festa accompagnata dal suono dei fiati e delle percussioni della banda musicale Giuseppe Verdi per noi è il settimo anno che facciamo il presepe vivente per noi è un motivo di vanto di gioia e di speranza anche perché in questo presepe quest'anno abbiamo voluto dare un tema un po' particolare quello della soledità facendo vedere anche scorci particolari del nostro quartiere e poi con il presepe tradizionale con la Sacra Famiglia che fin da adesso ringrazio per la loro disponibilità da due mesi che lavoriamo in maniera molto molto suono però sappiamo che è qualcosa di bello non solo per noi stessi che ci lavoriamo ma anche per lo stesso quartiere che con grande genosità ha voluto realizzare per l'internativa la prima volta a questo presepe vivente è la prima volta che partecipiamo al presepe vivente ed è una cosa bella perché comunque andiamo a rappresentare un qualcosa che è importante per la chiesa e per chi è fedele alla Vannara a Oscar Paro a Ricottara sono solo alcuni dei personaggi rappresentati dai più di 60 figuranti tutti rigorosamente residenti al quartiere Angeli il batterferro mescolare la ricotta condire con olio e spezie e il pane appena sfornato sono stati alcuni dei momenti più rappresentativi della serata ricordi ed emozioni raccontate da alcuni di loro ai nostri microfoni per me è la prima volta e sono contenta di presentarlo perché è una cosa una cosa nuova per me mi sento contenta mi ricordo quando mia mamma lavava i panni che si chiudeva la porta con la con la pila quella che si metteva a terra mia mamma dietro la porta che lavava la terra e si inginocchiava e lavava questo me lo ricordo avevo 4 anni 5 anni è una cosa che viene dal profondo del cuore è che veniamo tutti assieme qua per essere un'unica famiglia e per rappresentare la grazia di Dio e siamo qua tutti assieme formeremo il presepe più bello che ci sia l'associazione smaf sport music art e folklore presieduta da Gaetano Arizzi promuove il presepe vivente che sarà allestita all'interno di un circuito di antichi cortili del quartiere Canalazzo l'appuntamento è previsto per il 6 gennaio prossimo evento che porta a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e la valorizzazione di luoghi sconosciuti del centro storico il presepe oltre a rappresentare le classiche scene della navittività ricostruirà ambienti e spazi di lavoro che richiamano la tradizione storica del territorio all'ingresso del presepe al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che verrà devoluta in beneficenza alla piccola casa della misericordia con il quale avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del territorio l'orario di apertura al pubblico della manifestazione sarà dalle 19 alle 24 ed è stato allestito anche nella piazza San Francesco il presepe è realizzato nella parrocchia dalla parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del movimento giovanile e del gruppo archeologici d'Italia Triskelion il presepe è composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana e potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio prossimo e in conclusione del nostro telegiornale siamo all'informazione cinematografica e Babbo Natale non viene da nord il film in programmazione al cineteatro antidoto di Macchitella sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30 19.30 e 21.30 con questa notizia è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie arrivederci